Sì, terzo anno stiamo ripartendo, fortunatamente siamo riusciti a fare ripartire questa cosa. Le difficoltà quest'anno non sono state poche perché chiaramente le cose a cui si deve ottemperare giustamente sono tante ed è opportuno farlo, a cominciare dal fatto che il paddock era una zona inibita e non addetti ai lavori, mentre gli altri anni il paddock era una zona aperta. Poi cosa ancora, però chiaramente poi dall'esterno si può visionare, si può vedere, chiaramente in una maniera intelligente senza fare assembramenti, senza mettersi troppo vicino perché bisogna essere molto prudenti. Per quanto riguarda la manifestazione diciamo che ricalca lo schema degli altri anni. Quest'anno come partecipanti diciamo siamo stati anche un po' premiati, nel senso perché abbiamo più di 80 partecipanti, poco leggermente sopra e rispetto ad altre gare, l'ultima 15 giorni fa che era una gara di campionato europeo dove c'erano solitamente 190-200 macchine, siamo arrivati la domenica scorsa a questa gara che ho anche partecipato, eravamo mi sembra 102 macchine, mentre noi l'anno scorso eravamo 78 macchine e quest'anno non siamo cresciuti. Per cui insomma siamo abbastanza soddisfatti, ma soprattutto questa manifestazione, questa gara vuole essere un qualche cosa, non fine a se stessa, vuole essere un qualche cosa che porti un qualche cosa alla città, alla comunità e in questo senso si rivolge sia al sociale e sia diciamo anche sotto un profilo economico, perché alla fine queste persone che arrivano sono 80-82 vetture, per cui minimo sono 300 persone, 400 persone globalmente fra meccanici, accompagnatori, mogli e quant'altro, per cui vuol dire vendere un qualche cosa nelle tre giornate, un qualche cosa come 400-450 camere complessivamente, per cui diciamo è un piccolo contributo, un piccolo aiuto alla città e soprattutto agli abbergatori in quel senso e non da ultimo sinceramente anche un po' di promozione alla città, che chiaramente la nostra città ha tante bellissime cose che cerchiamo anche nel sito, se leva nel sito vede che ci sono tante iniziative di proposte e quant'altro e hanno riscontrato diciamo abbastanza successo. Poi, le dicevo, nel sociale cerchiamo di contribuire, di dare un piccolo contributo all'Unicef, che fra l'altro ci patrocinia, un contributo anche alla nazionale pallacanestro sorde, cerchiamo di fare questo meglio. Per quanto riguarda l'ente Parco, l'anno scorso per esempio abbiamo donato all'ente Parco quattro fototrappole richiesteci da loro per la selvaggina selvatica, per monitorare soprattutto i cinghiali. Quest'anno, sotto il profilo, cercheremo di contribuire all'acquisto, e anche questo credo sia molto, molto importante, ci tengo a sottolinearlo, di telecamere con la possibilità di visionare e sentire eventuali possibili incendi. Per cui saranno telecamere con rilevamento dei fumi. Questo è quello che faremo quest'anno per l'ente Parco. Per cui cerchiamo di impegnarci, cerchiamo di darci da fare anche sotto questo profilo. È una bella soddisfazione anche perché andiamo a valorizzare ancora quello che è il patrimonio e la storia automobilistica storica e motociclistica della nostra città. Già insomma è qualche anno che abbiamo costituito l'Associazione Terra Piloti e Motori, che serve anche a questo, a promuovere quelle che sono queste iniziative. Questa era una vecchia competizione che si svolgeva negli anni 50, in quello che sono uno dei luoghi più affascinanti della nostra città, che è la strada panoramica San Bartolo. Abbiamo tante persone che si sono già iscritte, circa 80, ma sicuramente la priorità sarà la sicurezza, quindi verrà svolta tutta la manifestazione in sicurezza. Lo sport non si deve fermare, lo sport ha un grande valore sociale, come questa competizione sicuramente serve anche ad attrarre tante persone nella nostra città. In questi anni abbiamo puntato molto su quella che è la vocazione sportiva della nostra città turistica e quindi ne andiamo orgogliosi.